perché vi confondete agitandovi lasciate a me la cura delle vostre cose e tutto si calmerà vi dico in verità che ogni atto di vero ricco e completo abbandono in me produce l'effetto che desiderate e risolve le situazioni spinose abbandonarsi a me non significa rovellarsi sconvolgersi e disperarsi volgendo poi a me una preghiera agitata perché io seguo a voi è invece cambiare l'agitazione in preghiera abbandonarsi significa chiudere placidamente gli occhi dell'anima stornare il pensiero dalla tribolazione e rimettersi a me perché io solo operi dicendomi pensaci tu la preoccupazione l'agitazione e il voler pensare alle conseguenze di un fatto è contro l'abbandono chiudete gli occhi e lasciatevi portare dalla corrente della mia grazia chiudete gli occhi e lasciatemi lavorare chiudete gli occhi e pensate al momento presente stornando il pensiero dal futuro come da una tentazione riposate in me credendo alla mia bontà e vi giuro per il mio amore che dicendomi con queste disposizioni pensaci tu io ci penso in pieno vi consolo vi libero vi conduco e quando devo portarvi in una via diversa da quella che vedete voi io vi addestro vi porto nelle mie braccia vi faccio trovare come bimbi addormentati nelle braccia materne dall'altra riva quello che vi sconvolge e vi fa male immenso è il vostro ragionamento il vostro pensiero il vostro ossillo e il voler ad ogni costo provvedere voi a ciò che vi affligge quante cose io opero quando l'anima tanto nelle sue necessità spirituali quanto in quelle materiali si volge a me dicendomi pensaci tu chiude gli occhi e riposa voi nel dolore pregate perché io operi ma in realtà voi pregate perché io operi come voi credete non vi rivolgete a me ma volete che io mi adatti alle vostre idee non siete infermi che domandano al medico la cura ma gliela suggeriscono non fate così ma pregate come vi ho insegnato nel patea sia santificato il tuo nome cioè sia glorificato in questa mia necessità venga il tuo regno cioè tutto quello che mi sta succedendo concorra al tuo regno in noi e nel mondo sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra cioè disponi tu in questa necessità come meglio ti pare per la vita nostra eterna e temporale se mi dite davvero sia fatta la tua volontà che è lo stesso che dire pensaci tu io intervengo con tutta la mia onnipotenza e risolvo le situazioni più chiuse ti accorgi che il malano incalza invece di decadere non ti agitare chiudi gli occhi e dimmi confiducia sia fatta la tua volontà pensaci tu ti dico che io ci penso e che intervengo come medico e compio anche un miracolo quando occorre pensaci tu ti dico che io ci penso e che non c'è medicina più potente di un mio intervento d'amore ci penso solo quando chiudete gli occhi quando vedi che le cose si complicano dico gli occhi dell'anima chiusi Gesù pensaci tu fa così per tutte le necessità fate così tutti e vedrete grandi continui e silenziosi miracoli ve lo giuro per il mio amore grazie 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 grazie